Bello lì è un bastardo, un bastardone, un bastardone! Anthony, dopo la prima posizione in Castelletto di Branduzzo vuoi iniziare con un'altra posizione quindi la prima posizione in QualiFunk oggi qual è il tuo sentimento? perché credo che sia un buon momento per te e per Sodicano sì, ovviamente voglio continuare la CEO della victoria e ora ho la prima posizione in QualiFunk e la condizione è stata molto fredda un po' freddo, freddo alla fine ero nella seconda gruppa la migliore gruppo e la ultima lapca era la lapca e non ho fatto nessuna scelta quindi è un lapca perfetto e ho fatto la P1, perfetto è importante questo risultato perché in Castelletto è una strada diversa da questa questa è una strada molto veloce quindi ti mostro che il tuo materiale può avere una buona performance in tutte le strada sì, ovviamente abbiamo cominciato a Lonato con Bridgestone con diversi tires con diversi track quindi siamo in fronte a Castelletto con diversi tires con diversi track siamo in fronte quindi qui spero che siamo in fronte ma ora la qualificazione con P1 vedremo dopo ma per il momento è ok è ok dobbiamo andare dall'altra parte della tent con Bass 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 la differenza è quasi 5 tent è solo per la track perché ok sì perché durante la qualità in il nostro gruppo dal primo all'inizio 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 è solo 10 minuti e il track era molto freddo in l'inizio e è diventato e diventato più freddo e più freddo quindi è stato un'essere di essere freddo tutto il tempo perché tu hai di spettare per avere la miglia ma è un po' è un po' perché ci sono alcuni ma non non un'altra parte del track era quindi non è facile se non parliamo di Sodicart chi è il più competitivo del track in l'Europa non solo dopo la qualità ma vedendo cosa che fatto durante la pratica abbiamo bisogno di tutti perché tutti possono essere freddo freddo tutti che sono freddo di può essere Lorenzo complesso perché ho cercato di seguire un po' durante le lap e non ho capito il sistema che fa ma ho fatto un po' di un po' un po' un po' un po' un po' un po' in un po' un po' un po' un po' e se vincere possiamo offrire qualcosa per un po' un po' un po' un po' perdiamo se perdiamo devo pagare un coffee grazie grazie